Ritorno ai nostri studi e per questo lo ringrazio, psicologo e psicoterapeuta, Mimmo Armiento. Ciao Mimmo, ben trovato? Grazie, grazie. Autore di questo libro, edito dalle Paoline, ti penso positivo, hashtag la felicità è una scelta. Argomenti molto interessanti, vasti quelli che affronti nel tuo libro, anche attraverso storie di pazienti che incontri quotidianamente. Io partirei da una frase che mi ha colpito sul finale. Il carpe diem, il cogli l'attimo diventa carpe deum. E la parola Dio ritorna spesso nel tuo libro. Sì, è proprio quello il fondamento del libro. È una riflessione questo libro, che faccio a partire dalla mia esperienza di psicologo e poi tutta la mia esperienza umana. È una riflessione che punta proprio in questa direzione, nel ridare, nel restituire il fondamento dell'umano in Dio. Non possiamo afferrare l'attimo, non possiamo godere di un piacere, non possiamo veramente vivere, anche soltanto l'esperienza di un godimento, così, effimero, senza un fondamento. Perfino Nietzsche, che è un autore, sappiamo, sulle filosofie nichilista, diceva che un piacere ha bisogno di eternità per poter esserne goduto. Vedi, anche un semplice piacere, come un bicchiere d'acqua, come un dolcetto. Un piacere non posso veramente farlo mio se non mi sento degno di quel dolcetto e se non sento che quel dolcetto è per me. Pensa, se quel dolcetto non fosse per me, io sentirei di aver rubato il dolcetto. Quindi io proverei un'esperienza di divertimento, cioè di evasione, di fuga, ma non posso prendermi quel dolcetto alla luce del sole, cioè sentendo che è per me, sentendomi poi degno di prendere questo dolcetto. Non solo, ma un piacere, se fosse soltanto tale, sarebbe autoprodotto. Capisci Paolo, un piacere può essere, vedi, io gratto qui la gamba e provo un piacere. Ma nessun essere umano può provare veramente una gioia dandosela da solo. Un uomo non può abbracciarsi da solo, non può darsi gioia da solo. Allora, un piacere diventa veramente umano solo quando è un dono che un altro ha fatto a me, cioè soltanto quando è colorato di gioia, altrimenti quel piacere è colorato di disperazione. È un piacere senza fondamento. Capisci? Quindi anche semplicemente un banale piacere, come la pizza o come qualcosa della vita, perché io possa umanamente goderlo, lo devo sentire come qualcosa che è per me, per la quale io sono degno, ed è un dono che qualcuno ha fatto a me. E quindi è gioia, è dentro una gioia. Ma se è così, Paola, il mio stesso corpo, la vita, ogni bene, ogni cosa, io posso goderla, soltanto se il fondamento è un dono, cioè se tutto quello che vivo poi lo posso ricevere come dono, non soltanto come il dono di Paola verso di me, ma come un dono più grande, capisci? Come un dono che ci precede. E allora io posso godere della vita, della mia vita, di ogni cosa, soltanto nella misura in cui lo percepisco come è per me. Cioè la vita è donata a me, è una gioia per me. Venendo, gustavo un tramonto sulla strada qui per San Giovanni. Per poter gustare quel tramonto, deve avere un senso quel tramonto. Per poter cogliere quel piacere, lo devi poter sentire come il pasticcino che qualcuno lo ha donato a te, che è per te. Nella misura in cui attingi a questa intuizione, cioè che quel tramonto è per te, tu puoi sentirti felice di esistere. Altrimenti quel piacere non lo puoi veramente vivere. Puoi vivere il piacere come sballo, come divertimento, divertere, cioè come qualcosa da prendere di notte, ma non puoi prendere la luce del sole. Alla luce del sole il piacere è gioia e gioia implica una relazione. Allora, anche davanti appunto a un tramonto alla vita, una persona può essere felice quando ha l'intuizione che tutto quello che esiste non viene da un caso, non è così senza senso, ma è per me. Uno psicologo, Robert Emmons, ha dimostrato che la felicità è un tutt'uno con la gratitudine, nel senso che non sono le persone felici a essere più grate, ma sono le persone più grate ad essere più felici. Il nesso è al contrario. E lui insegna psicologia positiva, esercizi, tecniche, eccetera, di gratitudine. Per esempio le tre benedizioni da fare a fine serata. Fermarsi a fine serata è ricordarsi due, tre cose della giornata per le quali sono grato. Noi a tavola, ad esempio, come famiglia, abbiamo questa abitudine. Invece di fare la solita preghiera, cioè nel senso di ringraziamento, eccetera, ognuno di noi dice, dopo aver fatto il segno della croce, tre cose di quella mattina che gli sono rimaste nel cuore. C'è tre scene, lo dico io, lo dice Cinzia, poi Enrico, Miriam, Clara. Quindi a tavola, prima di cominciare, ognuno racconta tre scene, tre momenti per i quali ringrazia Dio. Vedi Paola, se ringrazi, intanto hai qualcuno qui. È già questo. Significa che è riconosciuto che è un dono. Dal riconoscimento nasce la riconoscenza. Nella gratitudine c'è felicità. La felicità è una scelta. Cioè se io mi scelgo di essere grato di quello che vivo, io sto dicendo grazie a qualcuno, come dirti, e questo già mi fa stare dentro una benedizione interiore, già mi fa sentire felice. I greci parlavano di felicità e la dicevano eudaimonia. Eud vuol dire bene, daimonos, il demone interiore, c'è la voce interiore. Noi potremmo tradurre la voce buona, cioè una voce della coscienza che mi benedice. La felicità non è uno stato d'animo, è una benedizione interiore, è un giudizio benedicente. Nel momento in cui io benedico la mia giornata, io sono dentro una felicità. Nel momento in cui io benedico la mia vita, sono dentro una gioia. Nel momento in cui faccio del bene a qualcuno, interiorizzo il sorriso di quella persona, è una benedizione dentro. Nel momento in cui dico un grazie per un tramonto, io mi sento benedetto dentro per quel tramonto che ho. a cui ho detto grazie. In questo libro è chiaro, c'è tanto di mimmo armiento psicoterapeuta, psicologo, ma c'è anche tanto di mimmo armiento credente. E questa è l'esperienza che appunto ti sto raccontando. Cioè l'esperienza di Dio è un'esperienza di base. Vorrei chiarire questo. Il libro, sì, attinge alla parabola del figlio del prodigo, eccetera, ma, per esempio, la presento all'inizio come una storia, non come Vangelo, come una storia. Per dire che è una storia in cui si possono riconoscere gli uomini di ogni cultura e di ogni epoca. Anche non credenti. Anche non credenti. Gesù stesso, quando ha raccontato quella storia, non si era ancora manifestato come figlio di Dio, non era morto e risorto. Quindi si rendeva comprensibile alla ragione e ai desideri delle persone che lo stavano ascoltando. Quindi quella storia parla dell'uomo. E quindi quel Dio attingibile attraverso quella storia, cioè l'intuizione di un Dio che mi vuole bene, è un'intuizione a cui noi possiamo arrivare con la nostra ragione. In fondo la parabola del figlio del prodigo, proprio questo vuole dire che noi tendiamo a fraintendere il rapporto che abbiamo con Dio. O lo pensiamo come un padrone che vi impone delle leggi è tale che o mi adeguo a queste leggi come il bravo ragazzo, faccio il buono sì, ma senza godere della vita, oppure devo trasgredire, fare come il figlio minore che mette al suo primo posto la libertà, però poi si ritrova senza il bene. O prendo il bene senza la libertà, o prendo la libertà ma senza il bene. Tutto viene sballato perché la libertà e il bene non vengono poste fin dall'inizio. Dio mi vuole liberamente bene, vuole il mio bene. E nella misura in cui resto in questa relazione con Dio che mi vuole bene, anche io posso desiderare il bene, posso volermi bene e volere il bene. Questa cosa così semplice, così immediata, descrive l'umano potentemente, potentemente, solo a chi si sente amato da un sorriso, chi si sente voluto bene, vuole bene a sé, capisci? E anche al desiderio, dico, così come a livello di relazioni, se io mi sento voluto bene da una persona, da mia moglie, dai miei figli, eccetera, mi viene voglia di essere gentile con altri. Anche la psicologia positiva, questo l'ha dimostrato abbondantemente, cioè se io sono felice divento più gentile, se sono gentile divento più felice, diventa proprio un circolo virtuoso. Quindi la mia esperienza di fede, di cui parlo in questo libro, è un'esperienza universale che prescinde dalla rivelazione cristiana. Mimmo, io vorrei ricordare, innanzitutto il titolo del libro, ti penso positivo, hashtag la felicità è una scelta, ma ricordare anche che insieme a Tomoglie Cinzia avete fondato un'associazione ingannevole come l'amore che organizza weekend formativi rivolti a giovani, a coppie di sposi, a famiglie. Quindi c'è una pagina Facebook, ingannevole come l'amore. Non lasciatevi ingannare dall'ingannevole. Ecco, quindi andate a visitare, scoprirete qualcosa di più di questa associazione. Grazie per essere stato con noi, grazie per averci presentato il tuo libro. Alla prossima occasione. Grazie. Grazie.